Il valore della continuità, la sfida del futuro. Con questo slogan il centrosinistra si prepara unito alla sfida elettorale nel quartiere Santo Stefano, unico quartiere che vede la presenza della lista Bologna 2014. Un amministratore deve sapere anzitutto che un problema non si risolve mai per sempre e quindi sarebbe veramente veleitario dire che questa cosa l'abbiamo risolta e quindi non la tratteremo più. Ci sono dei temi aperti sui quali noi siamo già intervenuti, mi riferisco a quelli della scuola, alla viabilità, ai servizi, sui quali noi abbiamo già dato delle risposte che nessuno può considerare però definitive e quindi continueremo fortemente a lavorare su queste tematiche. E sugli ultimi fatti di cronaca e di violenze che hanno interessato il centro cittadino, così Massimo Bergami. Ho visto soltanto le cronache, evidentemente come tutti i cittadini sono preoccupato rispetto a problemi di sicurezza, di violenza in città. Il nostro primo valore che abbiamo dichiarato è una città vivibile, quindi questa è sicuramente la cosa per cui noi lavoriamo. Ho notato evidentemente nei toni della campagna elettorale molta enfasi su quello che è successo.